Il Movimento per l'autonomia e la campagna elettorale Schifani, rapporti con la Lega e il programma amministrativo, l'intervento di Raffaele Lombardo, Giuliana Miciche. Il Movimento per l'autonomia sostiene autonomamente la campagna elettorale, quasi sotto traccia, senza sbalzi di tensione, di ottimismo negli esiti. E il leader, l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, prospetta. Ci prepariamo a smentire i ridicoli sondaggi usciti in questi ultimi giorni? Noi corriamo da soli, senza l'appoggio di alcun partito nazionale, perché vogliamo rimanere la voce dei siciliani. E vi assicuro che ci avvicineremo a conquistare il 10% delle preferenze nell'isola. Le nostre liste sono molto più forti che nel 2017. Poi sul candidato presidente della regione della coalizione, in cui è parte anche l'MPA, Lombardo afferma La sua esperienza e il suo prestigio gioveranno. Per questo e per porre fine alla girandola di nomi abbiamo detto subito di sì a Renato Schifani. E poi sulla crisi del patto federativo con la Lega, Raffaele Lombardo commenta Per quanto riguarda il patto sottoscritto con Roberto Di Mauro, non credo che Salvini lo abbia violato. Credo semplicemente che non lo ha detto. E a proposito di patto, uno dei punti fondamentali erano le misure necessarie a colmare il divario tra nord e sud. Ora leggo spesso, e questo sì che mi preoccupa, che la Lega insiste sull'autonomia differenziata, che vorrebbe dire che le ricche regioni del nord tratterrebbero buona parte delle entrate fiscali per realizzare direttamente i loro servizi. Questa sarebbe la secessione di fatto, sul piano economico e sociale. E poi sul reddito di cittadinanza. La misura va corretta per impedire abusi e rinunce alle offerte di lavoro, ma o si adottano misure orientate ad una vera giustizia sociale, e ci vorrà la forza che gli stati non hanno dimostrato rispetto ai giganti della finanza, oppure avremo poche migliaia di possessori del mondo e qualche miliardo di percettori, non tanto del reddito di cittadinanza, ma del reddito di sopravvivenza. E quando i loro signori avranno finito di mangiarsi la terra, migreranno su Marte. Stanno già facendo le prove. Poi Raffaele Lombardo conclude sul programma amministrativo. Il programma del Movimento per l'Autonomia si compende in tre punti. L'energia, intanto. Si autorizzi chi costruisce impianti green, idrogeno, sole, vento, di cui la Sicilia abbonda, a condizione che lasci il 50% di energia alle famiglie e alle imprese. Niente di eccezionale. Anziché rientrare dell'investimento in 7-8 anni, ce ne vorranno 15. Avremo un territorio attrattivo di investimenti e di imprese e l'opportunità di dimezzare la bolletta di casa. La Sicilia diventerebbe l'Eldorado d'Europa. Il secondo punto è il Mediterraneo. Non c'è solo il Nord, il Belgio, la Germania o l'Olanda. C'è il Mediterraneo. Qui è la nostra storia. Qui sono i nostri naturali mercati. Il terzo punto è l'identità e l'ambiente. È il nostro tesoro da scoprire, da valorizzare e da proporre al mondo. Cultura e beni culturali, lingue e storia, ma anche biodiversità e grani antichi, biologico e foresta. Poi qualche misura di carattere organizzativo. Burocrazia regionale più agile ed efficiente, decentrando competenze, risorse e personale a comuni e province, per le quali va ripristinata l'elezione democratica di presidenti e consiglieri. è come se a fronte di un bilancio... Grazie. Grazie.